E what's up a tutti ciurme e benvenuti ragiocherini in questa nuovissima reaction Ebbene oggi ragazzi andremo a guardare insieme il nuovo trailer che è stato pubblicato riguardo The Callisto Protocol E' stato pubblicato appena cioè tipo due giorni fa ragazzi adesso non so quando pubblicherò questa reaction Però dal momento in cui sto registrando sono passati soltanto un paio di giorni Io di questo gioco so poco e nulla, so soltanto ovviamente che è un survival horror Che era stato presentato durante una conferenza che io stavo guardando in live sul sito Viola all'epoca E insomma la presentazione che avevano mostrato sembrava promettere davvero tanta tanta bella roba In quanto tra l'altro questo gioco ragazzi è appunto dai creatori della saga di Dead Space Perlomeno ci stanno lavorando persone che hanno appunto lavorato in precedenza su Dead Space Quindi io non ho mai giocato un Dead Space perché all'epoca ragazzi dell'uscita di Dead Space Giogherina era ancora troppo, fin troppo paurosa E quindi all'epoca non giocavo i giochi horror come li gioco adesso Con la tranquillità con cui li gioco adesso, tranquillità più o meno E quindi non ho avuto modo di giocare questa saga videoludica Saga che però a quanto so ragazzi ha entusiasmato parecchio i videogiocatori Tranne col terzo capitolo che adesso non ricordo di preciso quale fosse il problema Forse l'avevano reso un pochettino troppo diverso da quello che erano i primi appunto due Dead Space Specialmente il primo che a quanto so ragazzi è davvero un horror veramente pauroso dalle ottime atmosfere Quindi sono in hype per guardare questo trailer Adesso sì ragazzi, adesso che ovviamente non mi faccio tutti questi grandi problemi a giocare giochi horror Sono veramente molto impaziente di guardare questo nuovo trailer Per vedere a cosa potremmo andare incontro Perché chissà, se non sbaglio l'uscita è prevista per la fine di quest'anno Quindi chissà, magari, magari ci potrebbe uscire una serie Se dovessi riuscire a comprarlo al lancio chiaramente Quindi non perdiamo più tempo ragazzi e andiamo a guardare questo trailer Ok, sempre ambientato nello spazio ovviamente Shoot the tentacles Spara i tentacoli Eh minchia, il personaggio assomiglia, cioè la tuta assomiglia a un casino a quella di Dead Space E perché? È come qualcuno sta cercando di capire quello che sta succedendo qui Quindi cosa succedendo con l'origine colone? Abandoned Along con il resto di Callisto Vieni qui, oh Sì, sono evoluzioni Questi non sono accidenti Sì, sono calomni Non è un'escapesa, Jacob, non più! Cosa è un'escapesa? Ancesters! attenzione attenzione ok la domanda che mi stava sorgendo adesso ragazzi è se lo avremmo avuto anche sulle console di vecchia generazione a quanto pare sì ovviamente probabilmente ragazzi su ps5 e insomma xbox serie x sarà una bomba per gli occhi questo è poco ma sicuro però fortunatamente che ancora si ricordano che purtroppo ci sono persone che non sono ancora riuscite a passare a next gen quindi questo problema l'abbiamo superato perché mi sta a venire il dubbio magari non ci posso fare la serie perché se no lo posso giocare con i mezzi che ho e invece su questo dovremmo essere a posto che dire ragazzi allora quello che ho visto sembra molto molto interessante ma da quel poco che conosco dead space da quelle poche cose che ho potuto vedere ragazzi mi sembra estremamente simile sicuramente ci saranno meccaniche nuove svecchiate ovviamente però anche per esempio la tuta che indossa il tipo vista da dietro assomiglia davvero tanto a quella che si vedeva in dead space l'ambientazione è praticamente non dico la stessa però siamo più o meno lì ragazzi comunque ambientato nello spazio evidentemente in una stazione spaziale dove è avvenuto un qualcosa che purtroppo appunto ha trasformato le persone che ci stavano in creature mostruose e quindi cioè l'ambientazione anche sembra parecchio simile quindi se a qualcuno non dovesse tanto piacere appunto l'ambientazione spaziale questo potrebbe essere un problema a me personalmente per esempio non è che proprio mi fa impazzire infatti di The Callisto Protocol non non si era visto granché perlomeno non ricordavo proprio nello specifico che fosse così tanto spiccicato a dead space al punto da essere ambientato anche questo gioco insomma nello spazio evidentemente ricordavo male pensavo fosse un po' un'altra cosa invece appunto a quanto pare l'ambientazione quella sembra a prescindere comunque da tutto questo ragazzi promettere davvero bene nel senso le atmosfere sembrano starci i mostri ragazzi sembrano anch'essi davvero ben fatti non ce l'hanno fatto vedere tutti nel dettaglio ovviamente però 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 secondo me secondo me può essere un gran bel gioco un gran bel gioco ragazzi per gli amanti degli horror a maggior ragione per chi appunto ama l'ambientazione spaziale che dire le aspettative sono alte sì però appunto non avendo mai giocato dead space non essendo proprio tanto fan dello spazio ragazzi non è che proprio sto morendo di hype come per altri giochi che comunque usciranno a breve in ogni caso se dovessi vedere qualcos'altro di estremamente interessante riguardo questo gioco e se dovessi riuscire ovviamente a comprarlo a lancio probabilmente magari ci potrebbe uscire una serie carina ovviamente qua su youtube in ogni caso ragazzi aspetto come sempre i vostri pareri qua sotto in commento che cosa ne pensate di questo gioco se avete giocato dead space e quindi quali aspettative avete riguardo dei calisto protocol se lo comprerete a lancio oppure se aspetterete un po' questo video termina qui grazie a tutti un bacione dobbis a tutti ragazzi del giocherino ciao